eccoci qua di nuovo con una prossima puntata buongiorno a tutti carissimi amici e carissime amiche oggi siamo in una puntata un po' particolare sono particolarmente onorato di avere un ospite di rilievo che ci parlerà di cose importantissime ed attualissime ve lo presento subito il dottor Franco Fragassi buongiorno 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 a tutti allora io intanto lo ringrazio di nuovo dottor Fragassi per averci dedicato un po' di tempo e per darci qualche risposta per quei pochi che non lo conoscessero dottor Fragassi in realtà ha fatto molte cose è un documentarista di successo scrive libri è un giornalista per prima cosa eh investigativo potremmo dire giornalista di inchiesta che va sul campo e ha quindi visitato molti luoghi ha scritto molti libri nel corso della carriera oggi siamo qui ovviamente per trattare un pochino ciò che è eh di attualità e eh dottore sono particolarmente contento per due cose una la dirò anche a chi segue il mio canale per oggi sono qua in veste di eh come dire corrispondente mi sto prestando alla rivista Octagon russa per fare le domande che appunto mi sono state girate e andranno come intervista poi scritta e potranno leggere eh in Russia insomma ovunque sul sito di Octagon e sono molto contento anche io di averla qui proprio perché non sono tanti i giornalisti in generale i rappresentanti del mainstream che oserei dire che hanno il coraggio o che comunque continuano a cercare di dare voce ad una narrativa che anche esiste ma qui da noi è molto poco raccontata quindi poi magari se lei è così gentile da darmi il tempo le chiederei anche qualcosa di mio per ora le vado a leggere le domande che appunto la rivista Octagon mi chiedeva di girarle ehm allora vado sulla prima eh leggendo il suo libro e la prefazione di quarto Reich eh già si notano tantissime delle sue analisi in due parole lei parla di come i servizi statunitensi e la grande finanza di Wall Street da sempre hanno collaborato e supportato la parte nazista diciamo Ucraina in cambio di diversi vantaggi per esempio di un indebolimento dell'SSR prima e della Russia moderna ora ehm grazie a questo aiuto in sostanza una teoria vorrebbe che la parte nazista appunto sia uscita diciamo salva dopo la seconda guerra mondiale e lei ha detto queste parole si siano come si siano organizzati e abbiano impresso il loro marchio nelle vicende più oscure ha segnato il dopo guerra fino a oggi queste sono parole ovviamente di un certo peso potrebbe provare velocemente a convincere appunto i lettori in questo caso anche chi ci ascolta del delle sue ragioni del come è arrivato a questa definizione allora intanto eh il gli Stati Uniti America e alcune multinazionali grandi multinazionali americane sono legate al a questo mondo neonazista per eh diciamo ragioni eh già comprovate comprovate dalla storia eh i nazisti sono eh alla termine della seconda guerra mondiale c'è stata la più grande fuga eh della storia dell'umanità eh una fuga di massa di oltre due milioni e mezzo di persone che sono scappate dall'Europa eh tutti nazisti e fascisti di tutti i paesi europei eh fuga organizzata io in un libro che ho scritto che si chiama Hitler 1945 racconto di come è stata organizzata questa fuga fuga eh organizzata dal dal capo dei eh servizi segreti statunitensi in Europa costui non era uno qualsiasi costui era l'uomo che era stato inviato in Europa prima della seconda guerra mondiale dalle dalle grandi dalle diciamo la grande capitale statunitense per proprio per prendere contatto con i nazisti lui era un nazista dichiarato lo ha lo ha lo ha detto più volte nel corso della sua vita ha rilasciato interviste era amico personale di Adolf Hitler era amico personale di Martin Bormann e degli altri dirigenti del 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 terzo Reich e non è un un personaggio qualsiasi perché sono quello che ha fondato la CIA ed è stato il più potente direttore quindi noi abbiamo tutto un periodo che va eh anni 40 anni 50 e una parte degli anni 60 con costui che eh diciamo uno di due tre uomini più potenti d'America tra parentesi della persona che eh il eh il pubblico ministero del della Louisiana Jim Garrison ha accusato di aver assassinato Geoffrey General Kennedy cioè è un personaggio di una potenza straordinaria che è un nazista dichiarato e che ha fatto scappare documenti alla mano testimonianza la mano c'è veramente di tutto su questo questi nazisti e questi fascisti dell'Europa perché per lui essendo un nazista il demico non era la Germania ma il demico era l'Unione Sovietica il demico erano i comunisti e quindi ha cercato scusate se parlo così ma ho il naso intassato ma parlava di Hoover cosa non parlava di perdoni l'ignoranza parlava di Edgar Hoover no parlo di Allen Dallas Edgar Hoover è un Edgar Hoover è il capo dell'FBI ed è eh ed è stato un al di là di un personaggio potentissimo insomma un personaggio eh sicuramente ferocemente anticomunista ma molto eh più legato alle questioni interne e eh molto più eh diciamo teso a eh è una sorta di Edgar Hoover era un vero nazionalista non so come dire cioè quindi aveva un'altra figura era solo per inquadrare invece Allen Dallas è proprio eh ero insomma non so quanto gli fregasse del suo paese per lui la lotta era la lotta al comunismo senza quartiere in tutto il mondo perché quelle erano idee e dicevo per cui c'è c'è stata questa fuga di massa lui insieme ai servizi britannici ha proprio messo su un'organizzazione che si chiama Odessa eh che è l'organizzazione degli ex nazisti e gli ex fascisti in tutto il mondo una rete una rete ramificata ovunque che aveva la protezione della CIA cioè i servizi segreti statunitensi l'hanno protetta in tutti i modi questa questa rete e ovviamente ne hanno tratto anche beneficio perché perché bisognava lottare il comunismo il comunismo quale eh miglior eh soldato eh anticomunista di un fascista di un nazista insomma erano estremamente efficienti ed era quasi il motivo per cui erano diventati fascisti cioè erano prima anticomunisti e poi altro no? Quindi eh hanno eh diciamo questo mondo eh di di estrema destra nazista e fascista era stato eh inglobato della tra le fila del eh dei servizi segreti americani eh e anche delle forze armate americane per poter appunto portare avanti questo tipo di politica durante la guerra fredda. Tutto questo è è stato eh già esistevano ampiamente come ho detto ampissima documentazione ma una settimana fa è stato ampiamente comprovato se fosse stato bisogno eh da eh un'azione che ha fatto la CIA cioè la CIA eh una la scorsa settimana ha desecretato tremila ottocento documenti io credo che l'abbia fatto in funzione anti Biden perché la CIA in questo momento non aveva particolarmente il presidente degli Stati Uniti perché cosa cosa vi è raccontato in questi documenti? Vengono raccontate tutte le operazioni che la CIA ha svolto dalla fine della seconda guerra mondiale in poi con i nazisti ucraini cioè vi hanno raccontato come sono stati organizzati come sono stati addestrati come sono stati finanziati la prima operazione si chiama la prima di queste due operazioni la prima si chiama Bella Donna la seconda adesso mi sfugge il nome e loro viene spiegato nel dettaglio si può immaginare 3.800 documenti si va molto nei dettagli ma sì i nomi delle persone quali è come si chiamavano questi nazisti dove si trovavano come sono stati addestrati come sono stati finanziati tutta la rete di protezione che gli è stata creata intorno perché lo hanno fatto cioè a tutto quanto prima in funzione di una destabilizzazione dell'Unione Sovietica quindi avere una sorta di colonna terroristica dentro l'Unione Sovietica che potesse sabotare le fabbriche che potesse sabotare anche le azioni sociali potesse trovare diciamo provare a fare del proselitismo dentro l'Unione Sovietica tra coloro che si opponevano per portarli verso il lato nazista insomma e poi la seconda operazione invece si ha dopo la caduta nel muro di Berlino e quindi dopo la nascita dell'Ucraina in particolare si si focalizza sull'Ucraina e viene descritto minuziosamente come dal 1992 in poi i servizi segreti americani hanno spinto sull'acceleratore sui nazisti e come hanno creato eh piano piano queste questi corpi paramilitari come hanno spostato anche ideologicamente una parte della società ucraina e come poi si è arrivati definitivamente a un paese nazificato un paese che ha eh che è governato da nazisti però non in base a teoria di qualcuno che dice secondo me no in base a documenti della CIA cioè come la CIA descrive tutto questo assolutamente Vardi dottore questo per me è un gran piacere poterlo sentire appunto da una persona accreditata come lei no io qui sul mio piccolo canale passo per siamo quelli chiamati complottisti su certi argomenti però siamo anche di quelli che vanno a scartabellare nella storia quindi io per esempio ho presente tante storie appunto di servizi che durante la seconda guerra già ci sono storie di un colonnello corso di tante spionaggi riportati qua però ecco poi ci ritorniamo all'attualità e eh eh andavo come dire giusto anche nell'introduzione dicendo che la sua voce nel panorama giornalistico per quanto mi riguarda è è sacrosanta e per fortuna ancora esiste perché va controcorrente però ecco andando a fondo ci sono le spiegazioni di tutto mi viene in mente e questo glielo chiederei velocemente se vuole eh l'infamosissimo ormai anzi il famigerato laptop di Hunter Biden anche in quello si parlava della burisma di tutti i coinvolgimenti dei vari delle ormai anche notizie recenti le tranche di denaro ricevute anche da altre persone dell'entourage della famiglia di Biden però tutto questo appunto adesso vediamo invece un accanimento inoltre enorme contro l'ex presidente ovviamente con ragioni di campagna di offuscare una campagna politica però dall'altra parte appunto di quel laptop di tutte quelle informazioni di quello che ha cercato di tirar fuori Assange nulla viene fuori no? Ovviamente ehm fa pensare che riporta al suo filologico ecco quelli che hanno studiato quella parte della storia è cosa nota che a fine seconda guerra mondiale alcuni nazisti molte teste di quelle eh diciamo scientifiche andarono in America è forse meno noto che altre andarono in Russia però eh si pensa che gli scienziati furono divisi tra i paesi vincitori per come la vedo io e forse siamo un pochino d'accordo questo le chiedo la si potrebbe vedere al contrario sono i nazisti che si sono infiltrati in tutte e due le realtà diciamola al contrario non lo no diciamo che mettiamola così eh sì si sono divisi gli scienziati ma eh amavano dire gli americani che tutti quelli mi figherono da loro perché gli Stati Uniti sono mossi per tempo eh non fosse altro per il fatto che i sovietini sono mossi da quando hanno occupato fisicamente la Germania e eh l'est Europa mentre invece i nazisti sono mossi quando ancora la Germania era il Terzo Reich e e si sono mossi eh di comune accordo con il Terzo Reich quindi diciamo molti di questi di questi scienziati tedeschi erano già d'accordo da prima della fine della guerra di andare negli Stati Uniti quindi loro si sono scelti i migliori e se li sono portati a casa mentre invece i sovietici eh sono rimasti gli altri insomma quindi non è esattamente una divisione equanime forse per numero sì ma insomma è come è come se uno avessimo una squadra di serie A e l'altro la squadra di serie D sempre calciatori sono ma non sono equivalenti ecco. Cambia il livello ha fatto benissimo infatti ha sottolineato allora vado con la seconda domanda che le porge Ottagon eh una domanda un filo provocatoria lei è stato definito che secondo me questo lo aggiungo io ad oggi è una medaglia al merito lei è stata definito dalle autorità ucraine come nemico del popolo ucraino si considera invece amico del popolo russo? In realtà io mi considero amico di tutte e due cioè il punto è per dirla in maniera molto banale eh adesso visto che prima ho fatto metafora calcistica ai mondiali di calcio che ti favo con l'Ucraina non ce l'ho cioè io non ho mai avuta con l'Ucraina né con gli ucraini e tanto meno con i con gli ussi eh io penso che purtroppo eh il il a causa di questa ingerenza degli Stati Uniti America una parte nella opinione pubblica ucraina gli è stata fatta una sorta di lavaggio del cervello nel corso di questi trenta degli ultimi trent'anni cioè sono stati addestrati a essere quello che sono e si è insegnata una storia che non è la la storia reale si è insegnata una storia frutto di propaganda totalmente farlocca e quindi in qualche modo è normale che eh il eh che che una parte della popolazione quelli più suggestionabili quelli che hanno meno struttura anche culturale siano stati portati dal lato scuro diciamo del della politica e io credo che in questo momento il popolo ucraino sia una vittima di tutto questo cioè alla fine quelli eh ci sono quelli che eh sono morti perché c'è una guerra in corso quindi una serie di persone di persone di anche di civili sono morti poi ci sono quelli che vanno a combattere che vengono reclutati a forza e che vengono sbattuti in prima linea senza nessun addestramento che vanno verso morte certa perché è un massacro sono morti oltre 200.000 soldati ucraini in questo anno di guerra insomma non pochi e e poi ci sono quelli che comunque vivono in un paese eh eh dove l'energia elettrica è più il tempo che non c'è che c'è dove non hanno non hanno normale acqua potabile tutta una serie di cose hanno difficoltà per ogni cosa come avviene nei paesi che sono in guerra quindi diciamo che non è c'è se uno vuole bene al popolo ucraino vuole che la guerra finisca non che l'Ucraina vinca sono due cose diverse che l'Ucraina vinca uno vuole bene all'establishment perché vuole la vittoria invece chi vuole bene al popolo vuole che non smetta di soffrire e che la guerra termini non importa in che modo ma termini cioè meglio sopravvivere per avere un paese un po' più piccolo e un po' meno gloria che che so che magari cosa che non accadrà mai peraltro eh sconfiggere i russi eh dopodiché eh avere un eh un territorio così ampio che neanche si potrebbe governare un territorio totalmente devastato insomma eh il non c'è chi parla così è gente che non ha la più pallida idea di come di che cosa sia una guerra che non ci si è nemmeno mai avvicinato a una guerra tant'è che il paradosso di quello che è accaduto di quello che sta accadendo adesso è che i militari sono sono diciamo l'ala pacifista dell'establishment occidentale eh i eh generali a 5 stelle degli Stati Uniti generali della Nato generali di tanti paesi occidentali e perfino qualche generale ucraino hanno detto chiaramente che la la Russia non si potrà mai battere e quindi inutile continuare a cioè se uno vuole continuare a a a fare la guerra con la Russia è semplicemente per alzare la posta ma non per vincere la guerra è solo per farla prolungare e per alzare la posta finché prima o poi non si arriverà al conflitto nucleare lo dicono loro ce lo dicono le persone che sono più esperte in campo bellico perché si rendono conto di quello che è il popolo russo è l'altra vittima ma è una vittima diciamo una vittima quasi cioè l'Europa in particolare dell'Europa quale l'Europa si è scoperta razzista che è precisamente Europa a considera qualsiasi persona che parli russo come un essere c'è chi lo può considerare inferiore o comunque una sorta di essere malvagio che la cui solo presenza di contamina insomma abbiamo messo al bando una delle due tre di culture del del della storia dell'umanità che la cultura russa abbiamo escluso dalle competizioni sportive il paese eh uno dei due anche qui due tre paesi più ricchi di tradizione sportiva che ci possano essere cioè stiamo eh impoverendo l'umanità impoverendo il mondo impoverendo l'economia perché abbiamo escluso il paese più ricco al mondo di risorse eh di ogni sorta cioè stiamo distruggendo il pianeta e dopo di 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 un'ideologia folle perché è solo questo c'è solo una cosa ideologica puramente ideologica non c'è nulla di che vada oltre questo o al limite sì tutti gli altri poi interessi economici però credo che lo abbia detto benissimo in fondo anche proprio perché il mainstream ci porta a pensare in un certo modo non siamo più capaci neanche di distinguere tra il popolo ed establishment appunto del governo che hanno sempre due voleri diversi io per quel poco che ho girato in questo pianeta ovviamente non come lei ma mi sono reso conto che non sono mai i popoli sono sempre i governi che vogliono la guerra per cui di nuovo mi trova comunque d'accordo allora c'è un'altra domanda sempre da Octagon eh che ci porta poco poco indietro l'Ucraina del duemilaquindici eh c'era già chi dissentiva chi contestava chi provava a raccontare la verità su ciò che già stava accadendo nel duemilaquindici ehm era nemico del popolo ucraino chi provava e quindi in quanto tale era da eliminare anche queste parole sue eh credo quindi di quella epoca del duemilaquindici eh e di nuovo parole insomma con un certo peso ad oggi tutta l'Europa combatte ehm a fianco e per il popolo ucraino i russi hanno invece in pratica sempre contestato ciò che gli americani hanno sempre fatto prima di questa invasione eh in parole povere un regime non democratico e in sostanza la soppressione di diritti di salute di vite dei cittadini filorussi vuole darci un commento su questo? E allora intanto eh secondo me non esistono i cittadini filorussi cioè eh il non so come spiegare l'Ucraina è un paese eh è un paese diciamo nato artificialmente trent'anni fa in cui ci sono componenti molto diverse tra di loro che sono tutte tenute insieme da una cosa c'è l'unico collante di quel paese è la lingua russa non c'è un altro collante perché sono non è un non c'è un collante religioso perché ci sono i cattolici i gli ortodossi uniati che sono un'altra cosa ancora e poi gli altri ortodossi poi ci sono anche gli ortodossi rumeni che sono un'altra cosa ancora poi ci sono non c'è un collante linguistico perché da una parte l'Ucraina parlano polacco e tutto il resto del paese parlano russo eh non c'è un collante di nessun tipo è l'unico collante è la lingua allora in questa a un certo punto si è deciso per una questione veramente ideologica di fare la guerra al proprio paese alla propria cultura al proprio popolo cioè ai russi e alla lingua russa distruggendo sostanzialmente il tessuto del paese eh slegandolo tra di loro io sento dire eh sono state dichiarazioni anche ufficiali da parte di politici di altissimo livello in Polonia che sostengono che una volta finita la guerra loro si riprenderanno la Galizia orientale cioè dove si trova Leopoli cioè diventerà prende fanno quello che stanno facendo i russi adesso anzi nemmeno senza nemmeno la eh nessun tipo di pretesto dice perché semplicemente roba loro e se la riprendono cioè questa è l'Ucraina cioè l'Ucraina è un un insieme di realtà differenti il momento in cui tu togli la colla che le tieni insieme la distruggi per cui paradossalmente gli stessi nazionalisti ucraini che sono che hanno tutto questo questo fare tronfio come tutti quanti nazionalisti in realtà stanno disintegrando il proprio paese stanno facendo le operazioni opposte di quelle che dovrebbe fare un nazionalista valorizzando la propria cultura che non è l'Ucraina non esiste la cultura ucraina valorizzando la propria cultura dovrebbero dovrebbero valorizzarla dovrebbero eh utilizzarla come eh grima come diciamo clava per tenere fuori essendo nazionalisti le altre culture e invece stanno distruggendo se stessi stanno stando sui piedi e e questa cosa secondo me eh tra tutte le altre uno degli delitti più gravi che eh non solo nazionalismo ucraino ma anche l'Europa sta appoggiando secondo me sì la rimandiamo a quello che ha detto prima al fatto che è un popolo che è stato veramente eh brainwashed no? In un certo senso tant'è se ci ricordiamo semplicemente per chi non lo sapesse in quel popolo hanno visto un presidente che prima faceva la parte del dell'attore che interpretava il presidente che salva il paese e poi dopo qualche anno quel popolo vede quell'attore diventare quel veramente nella loro testa il presidente che cerca di salvare il paese no? Perché ricordiamo che Zelensky faceva l'attore comico e fece una serie dove lui interpretava proprio il presidente che salvava il mondo sostanzialmente quindi è veramente assurda la situazione mentale di quel popolo prima lo vede in tv poi lo lo vive nella vita eh almeno insomma io così me la sono raccontata eh allora vado avanti sempre ehm riportando le domande di Octagon eh nei suoi libri ehm spesso lo fa comprendere a volte lo ha scritto palesemente eh accenna l'idea di giornalisti diciamo prezzolati eh per alcuni è palese appunto che ce ne siano anche troppi in alcuni casi forse chi è costretto a ehm a scrivere forzatamente appunto forse è ehm perdono il gioco di parole forzato da qualcuno eh a volte invece è consapevole della ehm malinformazione diciamo che sta eh utilizzando parliamo parlando invece di quelli onesti ehm anche andandocene a fare una panoramica esplorando tutto il pianeta o la la realtà europea eh se le chiedessimo un nome o qualche nome di quelli che le piacciono di giornalisti onesti eh diciamo di cui potersi fidare le viene qualche nome? In Italia? Anche no parlando proprio la Octagon ovviamente essendo russa ci chiede eh il suo parere anche a livello europeo o globale un giornalista o qualche nome che le viene che le dà fiducia diciamo così. Allora vi vengono in mente a livello diciamo diciamo doni italiani per esempio Seymour Hersh che è un grandissimo giornalista molto serio lavora per il New Yorker lui ha vinto il premio Pulitzer e è un giornalista di inchiesta eh che ha fatto la storia di questa professione e ha ed è riuscito con le sue inchieste anche a cambiare la storia del mondo. Eh eh poi eh Greenwald è un altro giornalista eh di inchiesta eh il giornalista di inchiesta che ha che ha dato spazio eh 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 a Edward Snowden quando lui è ha deciso di rivelare le cose insomma grazie anche a a quello che ha fatto Greenwald che Snowden è riuscito a svelare molti segreti del della rete di spioraggio americana e di questo quello che noi chiamiamo il capitalismo della sorveglianza insomma che oramai è imperante in tutto il mondo. Eh ci sono anche in Italia ci sono diversi giornalisti capaci bravi insomma non è che tutti bisogna buttare via tutto assolutamente. No no infatti andiamo poi sempre eh la rivista se vuole domande andiamo proprio sulla realtà mediatica italiana eh quindi ci chiede come la descriverebbe lei che ovviamente la conosce bene e dall'interno notando eh che ehm ha si nota insomma nonostante nel mainstream c'è una narrativa ovviamente imperante sembra comunque questo ovviamente la rivista lo nota rispetto in questo senso paragonandolo alla realtà russa in Italia si nota ancora comunque uno spazio di discussione cioè anche se in maniera minore eh viene data voce anche a alla discussione diciamo a chi rappresenta l'altra parte della medaglia no? Minuscoli spazi ma anche questi però eh viene detto sono come boccate di aria fresca rispetto ad altre ad altre realtà come la vede? Sì eh questo è vero. Diciamo come valuta il livello di censura o di libertà di parola in Italia ecco. Il giornalismo in Italia non è particolarmente libero eh ci sono la maggior parte dei giornalisti che non è che non sono venduti sono semplicemente ignoranti oppure non sanno fare bene il loro mestiere o hanno paura ci sono tanti tanti motivi per cui eh si comportano fanno esercito la loro professione in questa maniera e e comunque esiste una parte di giornalisti anche se piccola che ancora crede che l'informazione sia una cosa plurale eh non lo so faccio e quindi dà spazio seppur criticando aspramente l'altra parte gli dà spazio non fosse altro per per mostrare il fatto che loro sono democratici non sono non sono cioè lo fa in maniera strumentale però uno spazio lo dà insomma ci sono alcune trasmissioni televisive per esempio non tanto la carta stampata ma questo nella in televisione che per far vedere che loro non sono monocolori insomma esatto e ascoltano anche le altre campane invitano persone che la pensano in maniera differente che possono raccontare sono diverse poi magari le massacrano in televisione ma gli danno modo in qualche modo di esprimersi e e quindi questo in qualche modo salva minimamente il il questo questo andamento autocratico che c'è dentro l'informazione insomma questa solita fiume unico la di nuovo descritto bene sarebbe da chiedersi se salva quindi un pochino la libertà di parola o salva più le apparenze diciamo dalla parte di questi che fanno questi programmi un po' tutte le due eh forse la realtà è un po' più quella allora vado avanti leggendo siamo alle ultime due e questa è una domanda particolare di cui mi interessa anche mi incuriosisce la sua risposta riuscirebbe la persona comune quindi ecco esempio non qualcuno come lei che comunque viaggia si informa a modo di arrivare dove il cittadino comune non arriva qualcuno così il comune lettore proprio diciamo a fronte di questa doccia mediatica che avviene come abbiamo appena descritto quindi non con una bilancia perfettamente equilibrata il cittadino normale potrebbe riuscire in qualche modo a beneficiare da tutto questo cioè potrebbe riuscire a fabbricare come mi scrivono qui una briciola di personale idea ipotesi sull'argomento oppure non c'è scampo questa confusione mediatica non lascia possibilità di trovarci la nostra verità diciamo così no allora il punto è che non è tanto le informazioni che trovi è il modo eh diciamo l'approccio mentale a queste informazioni cioè la cosa sta è a monte ci sono persone che hanno già una struttura culturale sufficientemente forte e hanno una coscienza di del tipo di di informazione che gli si parla davanti per cui sono in grado di in qualche modo di scendere dentro dentro il mondo delle informazioni magari non sono informati su tutto non valutano sempre bene le informazioni però hanno un'idea diversa rispetto al mondo del mondo rispetto a quello che gli viene raccontato le media e poi c'è la massa che anche se se magari gli può capitare di andare a leggere cose diverse ma non riesce ad assorbire non riesce a percepirle perché non ha gli strumenti cioè uno deve avere prima gli strumenti e purtroppo gli strumenti non ce l'hanno tante persone c'è bisogno di qualcuno che te li fornisca questi strumenti e quindi magari c'è molta gente che ha a naso quello che loro leggono quello che loro vedono in televisione gli sembra non credibile però non sanno esattamente come stanno le cose non è solo una vanno solo contro ecco e mentre invece per comprendere bene ci vogliono gli strumenti e gli strumenti non ti vengono dati alla scuola non ti vengono dati alla società e si fa di tutto per non darteli e questo è il problema principale e quindi è difficile per le persone comuni che non hanno questi strumenti riuscire a dare oltre la rabbia o il semplice andare contro è verissimo forse uno dei pochissimi antidoti una delle medicine che abbiamo in questo è la preparazione lo studio la veramente l'approfondimento anche da parte nostra personale io dico spesso una frasetta che non è neanche mia ma la verità è come il sapore della fragola non ce la può insegnare nessuno in realtà la dobbiamo assaggiare di nostro per avere un'idea un'ultima domanda proprio appunto lei in qualità di giornalista ha visitato ora non so esattamente quando ci sia stato però è stato in Donbass quindi ci può raccontare quello che vuole insomma di questa esperienza di come ha visto quella realtà lì allora l'esperienza di Donbass come tutte le esperienze in luoghi di guerra è stata un'esperienza forte posso partire proprio da quanto quando c'è stato? C'è stato lo scorso fine agosto insomma secondo me l'anno scorso in piena fase e diciamo che ho trovato da una parte una situazione agghiacciante per esempio a Danieck la città viene continuamente sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina si vive con l'angoscia di essere di ricevere un colpo di cannone in testa in qualsiasi momento si vive con l'angoscia di saltare su una mina perché gli ucraini attraverso dei missili spargono mine anti uomo ovunque nella città e gli ospedali ne sono pieni di gente di soprattutto bambini e anziani che hanno un pezzo di gamba saltati in aria perché le mine non ti uccidono le mine ti fanno saltare solo un pezzo di gamba perché lo scopo è mutilarti per tutta la vita quindi diciamo che si vive in questa maniera a Danieck dall'altra ho visto una realtà e Danieck invece è una città integra una città piena di musei di teatri di parchi e tutto il resto e poi uno va a Mariupol per esempio che è una città in parte rasa al suolo invece si vive un area totalmente differente quasi di gioia e sembra paradossale ma le persone che hanno la casa distrutta sono contente perché non stanno più sotto l'Ucraina ma sono ritornate a essere sotto la Russia ed è una città da quel che so io la già l'avevo vista con i miei occhi ma insomma da quel che so io a questo punto è quasi interamente ricostruita e passava meno di un anno e una città di 600 mila abitanti distrutta per gran parte è già interamente ricostruita diciamo al pensiero quindi in Italia che abbiamo la matrice che ancora diciamo quasi quasi fare venire i russi qui per ricostruire le nostre città però insomma fatto sta che si respira un'area diversa cioè dove è passata la guerra violenta dove ci sono stati eh dove sono i segni reali della guerra lì sono più contenti e mentre invece dove eh c'è questa sorta di guerra sotterranea con le bombe che cadono ma non si combattono non si è mai combattuto invece eh la situazione è molto più drammatica quindi è una situazione molto strana chiarissimo allora dottore io lei è stato così gentile ci ha dedicato io non le rubo più di un'ora però ho terminato ho sentito gradissima difficoltà a parlare perché no in realtà si è sentito benissimo però capisco la difficoltà mi dispiace cioè non è bello però non so come fare cioè se posso approfittare un secondo in più le domande per la rivista sono terminate però visto io la ho qui con tutta l'esperienza che c'è la capacità di analisi geopolitica velocissimamente io dico solo una cosa sembra anche ecco anche a me anche a chi ha occhi per vedere abbiamo capito abbiamo sentito le dichiarazioni in realtà poi proprio in questi giorni con Xi Jinping sembra che Putin sia pronto a sedersi ad un tavolo sembra che l'unico che abbia detto addirittura dichiarato no la quella la pace ad ogni costo non la faremo mai l'unico che voglia o almeno sappiamo che c'è dietro Biden che spinge ma colui che non sembra pronto a terminare il conflitto è proprio Zelensky invece quindi eh alcuni addirittura ho sentito io altre analisi che dicevano beh invece dall'altra parte Putin lo stanno sostanzialmente mettendo in condizioni di non avere altra possibilità che non dare un'ulteriore accelerata avere una mano ancora più pesante per riuscire a chiudere la situazione perché altrimenti Putin l'unica altra mossa che dovrebbe fare è quella di arrendersi lui che la sappiamo improponibile quindi appunto sembra quasi che Putin sia forzato nel dover alzare la posta come la vede lei secondo lei come cosa vedremo come la risolveremo sta facendo secondo lei la risolveremo solo quando gli Stati Uniti si convinceranno eh quel momento non so non tanto gli Stati Uniti ma Biden non sembra minimamente convinto anzi tutt'altro quindi il al momento non si vede all'orizzonte la possibilità di una pace eh dobbiamo sperare in un cambio di leadership oltreoceano? Né quello ci sarà prima di un anno e mezzo che si andrà a votare tra un anno e mezzo e quindi con molta probabilità se Biden non cederà cioè non deciderà lui dice vabbè basta facciamo la finita la guerra continuerà almeno per un altro anno e mezzo poi stando agli attuali sondaggi eh una seconda sfida tra Biden e Trump vedrebbe nettamente vincitore Trump in quel caso la prima finirebbe un secondo dopo però eh appunto eh il punto è che Biden non vuole ha interessi personali cioè lui si gioca tutto in questa guerra al tempo stesso non si può presentare le prossime elezioni con la guerra in corso perché per lui sarebbe un dramma dal punto di vista anche perché la guerra genera crisi economica e tante altre cose quindi dovrebbe risolvere la prima ma come fa a risolvere la prima? Non è risolvibile cioè si è incartato praticamente anche perché credo che il personaggio eh personaggio Biden dico non è che si brilli di intelligenza insomma quindi è uno diciamo eh totalmente preso dalla sua ideologia e da se stesso che adesso probabilmente non sa come uscirne vedremo tutti noi come andrà a finire dottore io la ringrazio tantissimo del tempo e delle risposte che ci ha dato eh quindi come l'ho detto ecco se avrà piacere oltre che vederla sulla rivista vedremo anche in gentilissimo e grazie mille a tutti ieri a tutti ieri grazie a tutti ieri